carissimi amici amiche bentornati per una nuova forse l'ultima speriamo l'ultima puntata di questo ciclo di catechesi dedicata alla ipotesi teologica sul peccato originale quindi la dimensione sessuale dopo il peccato originale come dove quanto se e perché questa dimensione implicata nel peccato originale stiamo ripercorrendo un pochino tutto quanto questo lungo itere che ci ha portato al termine di questo nostro escursus la volta scorsa abbiamo visto il cuore insomma di del nostro discorso ossia abbiamo ripercorso l'ipotesi avanzato dagli scritti di maria valtorta evidentemente secondo la prospettiva di questa mistica rivelati da da gesù e quindi che la dimensione sessuale non è semplicemente conseguente al peccato originale quindi il modo attuale di procreare ma è come dire il termine di arrivo del peccato originale quindi ha coinvolto anche il compimento stesso del peccato originale anche se non si può ridurre il peccato originale tu cur a questo abbiamo già visto la volta scorsa che si tratta di peccato complesso quindi che coinvolge varie dimensioni la superbia l'avarizia la cura la lussuria e consiste fondamentalmente nella trasgressione dell'ordine di dio di non violare il mistero della vita questo secondo gli scritti di maria valtorta prima di giungere al termine della disamina abbiamo ho dovuto per ragioni che ho spiegato a suo tempo presentare in forma sintetica una presentazione critica degli scritti di don guido bortoluzzi che gli afferma parimenti ripelati che afferma essere diciamo così una interpretazione autentica del del dato biblico della genesi nonché una un completamento quindi un coronamento di quanto affermato da maria valtorta come già detto a suo tempo nell'ipotesi che adesso non ipotesi brevissimamente rivelata da questo sacerdote che il peccato originale sarebbe consistito in un atto sessuale compiuto da adamo contro la volontà di dio non con eva ma con una ancestra con una una mezza scimmiona insomma non del tutto animale ma evidentemente anche non del tutto umana che sarebbe stata come dire l'incubatrice scelta da dio sia per generare adamo e sia anche per generare eva che non sarebbe la come dire il motore del peccato originale eccetera eccetera ma sarebbe appunto una bambina nata lo stesso da questa scimmiona non però come nacque caino che sarebbe il figlio del peccato originale sempre secondo queste ipotesi ma attraverso una fecondazione come dire differente realizzata da dio attraverso il gamete di adamo quindi eva in realtà sarebbe la figlia di adamo leva biblica capite che tutte quante e quindi poi essendo caino già già caino stesso figlio di un rapporto ibridato la diffusione del genere umano proveniente poi da caino per questo ammazza a bene eccetera eccetera contamina tutti quanti detto questo in pochissime parole ed è per questo che poi ci sono stati reperti storici come i fossili eccetera eccetera no però il genere umano è è ibridato secondo questa ipotesi ho già detto a suo tempo che io certamente lungi da me andarmi a come dire a ergere a giudici di ultima istanza giudici di ultima istanza su queste cose su tutto quello che abbiamo detto durante questo ciclo di carica e si salvo quello che hanno detto il padre della chiesa che quello non si può evidentemente ignorare però sia per quanto riguarda maria valtorte sia per quanto riguarda guido bortoruzzi se un giorno la chiesa dovesse affrontare questa tematica certamente dovrà dire una parola io per quanto riguarda la mia piccolezza la mia limitatezza ho già avuto modo di evidenziare e l'ho scritto l'ho detto anche ai molti che mi hanno contattato come potete immaginare dopo aver sentito le cariche su guido bortoruzzi ah no 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 padre ma lei non ha capito niente cioè non è così guarda approfondisca bene dico guarda figlio mio non voglio assolutamente mettermi questa cosa io per quello che ho potuto insomma capire vedere ho delle difficoltà oggettive perché mi sembra che alcuni dati biblici siano esplicitamente contraddetti e altri siano non accettabili non ce la fa la mia coscienza quindi poi certamente io non mi voglio ergere a giudice di ultima istanza certamente la mia coscienza lo stato attuale questo 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 dice quindi adesso concludendo oggi cerchiamo di fare magari l'exio più breve quindi questo è quello che è emerso dal nostro lavoro allora torniamo ai punti di partenza perché evidentemente no allora tutto questo discorso il motivo per cui io fui colpito come ho già spiegato a suo tempo e anche da dagli scritti di marie valtorta perché lì che io avrì un pochino gli occhi e anche le catechesi che avevo fatto isolatamente diciamo così su questo argomento quindi non avendo se non pochissimo materiale patristico di riferimento oltre agli scritti di maria valtorta io rimasto letteralmente folgorato perché che se ne dica oggi in giro perché adesso veramente amici miei preghiamo perché penso che molti di voi siano aggiornati adesso non è che si tratta di parlare male o di fare polemiche stanno succedendo nella chiesa cattolica delle cose che per chi ce l'ha fanno letteralmente addrizzare i capelli qui altro che conferma della dottrina tradizionale della chiesa sulla sessualità che non può essere cambiata da nessuna e per nessun motivo qui stanno cercando di sdoganare ben oltre come dire il sesso libero dei sessantottini insomma stiamo veramente andando oltre io non sono sto signore fino a quando permetterà ecco che la sua povera chiesa almeno nella sua immagine certamente non nella sua essenza debba essere umiliata in questo modo insomma va beh in ogni caso quello che la chiesa insegna nel catechismo che tale era tale è e tale sarà che che ne dica chiunque d'accordo io evidentemente parlo di questo in quanto ministro della chiesa senza nessunissima paura ma senza tema di essere smentito da nessuno perché chiunque smentisce quello che sto dicendo fuori della chiesa anche se fosse dentro con il corpo o anche con qualche ministero insomma no allora il discorso è molto semplice se uno volesse riassumere in due parole il tema sesso per un figlio di dio per un battezzato l'argomento sesso è un argomento adesso immaginiamo quanto quanti salteranno dalla sedia che non esiste a meno che a meno che tu non apri l'argomento sacramento del matrimonio che è uno dei sette sacramenti ma anche dentro il sacramento del matrimonio ci sono tantissime limitazioni nella castità coniugale ogni tanto qualche coppia lo dico o qualche persona che vive nel matrimonio non solo che ha ascoltato le mie catechesi perché non c'è bisogno di ascoltare le mie catechesi ricordiamo sempre che tutte quante queste cose la legge di dio anche sulla sessualità noi ce l'abbiamo iscritta dentro il cuore il catechismo della chiesa cattolica una catechesi che uno può ascoltare non fa altro che far emergere a galla magari coscientizzare o comunque dare forma a delle istanze che una persona già sente cioè se una persona si mette in ascolto della sua coscienza capisce bene anche all'interno del sacramento del matrimonio che certi atti sono indegni dell'uomo e per cui non si devono fare non c'è bisogno nemmeno di andare a chiedere al confessore certo poi uno lo chiede al sacerdote o al parroco o al confessore a seconda delle sedi perché vuole come dire avere una conferma ma ci arrivi già da solo d'accordo quindi su questo tema la chiesa non è che è rigida nell'insegnamento di più e ricordiamo anche che il re venera non da tur parvitas materie ricordiamo anche che Fatima Fatima non è né Maria Valtorta con tutto l'affetto che io ho verso questa mistica né Monsignor Bortoluzzi perché Fatima è un'apparizione riconosciuta dalla chiesa e la Madonna Fatima ha detto che il peccato che porta più anima all'inferno sono i peccati della carne e che tutti quanti dannati ha aggiunto tutti i dannati sono marchiati col peccato impuro alcuni ce ne hanno anche altri ma molti stanno all'inferno solo per questo quindi tutte queste cose è chiaro che a una persona che pensa dice ma perché tutto so marasma cioè per una cosa che così che è così la fine del mondo sì va bene si comporta anche degli atti un pochino come dire un po' un po' così ma tutto sommato non è che siano tanto male no? io queste domande me le ero sempre portate dietro cioè fin da giovane ne parlavo con i sacerdoti e chiedevo dico senti un attimo credo di averlo raccontato questo qui questa è un'esperienza vissuta ma io non ho mai trovato risposte prima di vedere queste cose io quando insomma io per grazia di Dio ho avuto la fortuna la fortuna non una fortuna la grazia da parte dell'altissimo lo dico di conservare la virginità sono stato giovane e tante domande me le facevo no? e mi confrontavo con i sacerdoti che conoscevo a suo tempo dicendo dico ma senti un po' ma tu mi vuoi spiegare come può essere accettabile da un essere umano il fatto che se una persona va con la fidanzata il giorno prima del matrimonio peccato mortale San Paolo la fornicazione l'inferno Santa Maria Coretti si è fatta ammazzare per non farlo che fai Alessandro che fai? è peccato vai all'inferno 24 ore dopo non c'è più nessun peccato non solo non c'è più nessun peccato attenzione ma secondo il diritto canonico l'atto coniugale perfeziona il sacramento del matrimonio cioè il matrimonio diventa indissolubile assolutamente solo dopo il compimento dell'atto coniugale e il che fa ancora capire che l'indissolubilità non si fonda sul sacramento e non si fonda sul sacramento l'abbiamo visto durante questo ciclo di carichesi perché il matrimonio si fonda sul diritto naturale non sul diritto sacramentare allora dicevo tu questa cosa me la devi spiegare cioè 24 ore prima peccato mortale che si va all'inferno se andai a vedere i penitenziali tariffari di qualche centinaio di anni fa per un peccato di fornicazione semplice cioè ti beccavi 7 anni di digiuno a pane e acqua spero che non fosse digiuno tutti i giorni insomma che fosse una cosa non lo so com'era io però ricordo questa informazione nei corsi di liturgia che fece a suo tempo fu data e 24 ore dopo non c'è nessun peccato anzi solo da quel momento il matrimonio diventa dissolubile quindi è un perfezionamento di un sacramento dico qualcuno mi può spiegare questa follia qualcuno mi dà una spiegazione ragionevole per favore oppure uno deve dire vabbè è così è peccato prima è peccato e poi no ma perché domande che mi sono sempre portato dietro domande che qui adesso io da prete me le fanno a me perché se un ragazzino viene a chiedersi scusa noi sono tanto innamorato della mia amorosa a noi guarda noi ci promettiamo amore eterno io non andrò con nessun altro di fuori a dire perché no certo ci sono tante argomentazioni insomma da 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 fornire no non soltanto questa però se quello mi fa una domanda mi facesse la stessa domanda che io feci a suo tempo ai miei confratelli allora perché se io vado con la mia fidanzata oggi queste cose non te le chiede nessuno perché vergine al matrimonio sono ben pochi quelli che ci arrivano ma se uno volesse fare la volontà di Dio questo è e se uno dirà ma perché perché non solo siccome Dio non fa cose inutili perché questo sacramento sì il sacramento del matrimonio scritto a San Paolo è immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa sì ma è l'immagine nella dimensione del segno d'accordo cioè per carità è una cosa importante ma tutto qui cioè il matrimonio serve soltanto a che in due battezzati la loro unione sia un segno quindi visibile dell'unione che c'è tra Cristo e la Chiesa tutto qua solo questo e poi tra l'altro l'unione tra Cristo e la Chiesa come ben sappiamo è una unione mistica no? invece nel sacramento del matrimonio insomma c'è anche un'unione non semplicemente mistica no? allora abbiamo già visto che in questo ciclo di Catechese è chiaro il matrimonio non è fondato sul sagramento ma è fondato sul diritto naturale l'indissolubilità è fondata sul diritto naturale i figli nascono non come conseguenza del matrimonio ma come conseguenza dell'atto sessuale non ci serve il matrimonio per far nascere un figlio né di diritto naturale né di diritto sacramentale giusto un figlio nasce dovunque tanto è vero che certi c'erano sparsi nel mondo non sono manco da averceli allora dico rebus sixtantibus dicevano i giuristi romani a che serve questo sacramento? perché è un sacramento? attenzione secondo il diritto canonico non sono un esperto però lo so quel poco lo so per un battezzato non può esistere matrimonio se non attraverso il sacramento e perché? se il matrimonio è fondato sul diritto naturale perché? potrei tranquillamente sposarmi al comune perché il matrimonio è fondato sul diritto naturale l'importante è che ci sia la volontà di costituire un'unione stabile definitiva indissolubile perché? se uno si sposa al comune come penso che ancora qualcuno sappia pecca mortalmente cioè una coppia che si sposa al comune per sposarsi poi in chiesa questa è la disciplina attuale della chiesa c'è bisogno della dispensa del vescovo addirittura ecco tutte queste cose ma come mai? quei passi della scrittura come mai? perché una donna per fare una cosa così bella deve soffrire l'ira di Dio insomma perché tutte le donne che hanno partorito mia mamma non lo raccontava sempre non esiste dolore più grande fisico almeno di questo certo poi quando uno vede il bambino come dice Gesù nel Vangelo la gioia di vedere la tua creatura te lo fa dimenticare però insomma nel momento ma poi tutte quante le mortificazioni i cicli mestruali femminili la legislazione l'abbiamo vista la volta scorsa del Levitico dell'Antico Testamento la donna impura se perde sangue eccetera eccetera tutte queste cose qui la circoncisione perché ha questo gesto insomma un po' un po' così no? che coinvolgeva anche gli adulti che volessero diventare ebrei cioè ci sono tutta quanto una serie di domande 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 poi perché nel libro della Genesi l'unione si parla esplicitamente dell'unione sessuale dopo il peccato originale questo perché il Salmo 50 dice nel peccato mi ha concepito mia madre quindi cioè nel peccato in che senso? che fanno peccato concependomi oppure perché nell'atto stesso di concepirmi si trasmette il peccato originale quindi capite quante domande ruotano qui intorno no? tantissime ci sono anche ulteriori elementi scabrosi nel senso scabrosi o meglio tristi chi conosce il mondo del nemico ci sono le testimonianze insomma alcune veramente molto forti e prima di accostarci si bisogna averci lo stomaco d'acciaio e avere una fede ben formata e anche insomma altro cioè ma i riti al contrario che fanno i poveri servi di Satana sono orge orge in cui avvengono profanazioni non soltanto di vergini obbligatorio atto durante un rito loro ma profanazione dell'eucaristia compiuti all'interno delle orge il numero del diavolo è 666 guarda caso i peccati proibiti sulla tema della purezza sono quelli sul sesto comandamento cioè noi dobbiamo fare sempre attenzione perché la testa dobbiamo farla funzionare queste queste considerazioni sono considerazioni come dire fatte facendo funzionare la testa 3 volte 6 3 è il numero della perfezione è se la Madonna Fatima dice i peccati che portano più anime all'inferno sono i peccati della carne e tutti i dannati sono marchiati da questo peccato ma questo vorrà dire qualcosa no? tutta quanti il monnezzaio che vediamo adesso in giro perché adesso c'è un monnezzaio generalizzato oggi c'è sesso libero a qualunque età non se ne può farla tutto lecito anzi consigliato ci sono alcuni esperti in scienze umane non voglio dire la categoria che suggeriscono la pratica precoce della sessualità della masturbazione eccetera eccetera sappiamo benissimo che tutta quanta la corrente che si sta ormai che sta ormai dilagando e che sta entrando dentro la chiesa della normalizzazione assoluta dell'omosessualità quindi tu avverti questo istinto lo devi assolutamente vivere ci sono in ambito cattolico penso che lo sappiate altri approcci evidentemente conformi con la rivelazione guarda Luca di Tolve o guarda Corage o adesso è morto ma c'è chi ne ha raccolto l'eredità Joseph Nicolosi negli Stati Uniti che evidentemente hanno tutta altra prospettiva ma sono di fatto ahimè correnti minoritarie perché va prendendo piede sempre di più questa idea che anche questo orizzonte sia normale quindi stiamo a questi livelli immaginate cioè lo capite fare un discorso di questo genere dentro l'attuale contesto storico culturale come dire vogliamo chiamarlo lo chiamerebbe qualcuno se vuole farti un complimento anacronistico d'accordo ma per qualcun altro potrebbe essere una cosa completamente proprio fuori del mondo ecco io ho un sentore evidentemente non in questo contesto ma quando ci sarà questo benedetto del trionfo del cuore immacolato di Maria ci saranno a mio avviso tante belle cose nella Chiesa risuscitata di nuovo splendida ci sarà la possibilità anche di un intervento su questo argomento io non lo escludo affatto che arriverà un giorno in cui da parte della Chiesa si dica non dico è proprio andata così ma l'ipotesi più verosimile sembrerebbe questa almeno questo non si sa non faccio il profeta quindi questo questo sicuramente sarebbe una cosa molto utile anche perché se le cose sono andate così in particolare come le racconta Maria Valtorta capite che anche il Barontini ricorderemo adesso rileggerò alcuni passaggi al termine del suo lavoro dice ma così potrebbero accusarmi viene svalutata la sessualità svalutata è una parola un po' troppo grossa ma certamente ridimensionata perché oggi la sessualità è diventato un totem come dire indiscusso indiscusso cioè se tu a qualcuno ti azzardi a dirgli guarda che tu ti devi incastidare ma tu mi fai crescere come un represso ma io non posso mica crescere come un represso un adolescente che comincia a fare maschietto femminuccia le prime purtroppo cadute solitarie almeno in primo approccio esplorative che cosa fai lo devi ammonire devi dirgli che cominciassi da subito a combattere o lo devi lasciar perdere secondo molti esperti chiacchieroni che girano nel mondo ma lo devi lasciar perdere che gli fa subito la repressione lo fai crescere il represso è normale in adolescenza lascialo fa anzi gli fa pure bene quindi stiamo in questo stiamo in questo contesto allora dentro la dottrina cattolica sia chiaro questo qui la sessualità è lecita solo per il compimento degli atti coniugali d'accordo fermo restando perché è sposato certamente che è sposato i baci e le intimità per carità gli atti preparatori dell'atto coniugale è ovvio che sono consentiti non tutti però che che ne dica qualcuno perché quegli atti che sono disordinati come fini si pensi ai rapporti contro natura anche nelle relazioni come dire tra persone di sesso differente d'accordo perché sono contro natura sempre non è che sono contro natura se sono praticati soltanto da persone dello stesso sesso sono contro natura anche se praticate da persone di sesso diverso quindi quando si parla di atti contro natura se qualcuno si sente offeso non si sente offeso perché anche all'interno della coppia etero come oggi amano dire sono sempre atti contro natura d'accordo e se sono illeciti come fine quindi come strumenti di raggiungimento del piacere sessuale sono anche illeciti come mezzi questo è quello che ha tenuto la grande maggioranza degli autori cattolici lo dico perché so per certo che non da tutti questa cosa è come dire è insegnata con conseguente poi sbandamento delle coscienze e problematiche anche molto molto serie dentro la vita delle coppie atti coniugali aperti alla vita e la chiesa con linguaggio sobrio della Gaudium et Spes dice compiuti in maniera umana e onesta onesta significa appunto l'atto coniugale aperto alla vita umana qui bisogna fare uno sforzo perché gli esseri umani si amano guardandosi in faccia se io non fossi un essere umano ma fossi un animale gli animali vivono questa dimensione in un altro modo quindi qui ci vuole una mente che abbia non tantissima sapienza non ci vuole la scienza infusa a credere questo significa che certi modi di unirsi anche nel compimento dell'atto coniugale sono moralmente illeciti come si insegnava esplicitamente nei manuali classici di morale sessuale sono facilmente reperibili online quindi chi vuole farsi una cultura e quelle cose non possono essere messe nel dimenticatore ah questa era la morale casistica quindi queste erano tutte quante esagerazioni di cent'anni fa adesso non le abbiamo superate ma quando mai ma quando mai non è vero quindi attenzione ridimensionamento non vuol dire svalutazione perché la chiesa afferma anche che la coppia cristiana deve cercare di nobilitare la sessualità umana integrandola non ho già parlato usa questo termine nell'affettività cioè deve fare in modo che quei gesti che di per sé questo nessuno lo può negare hanno una spinta una matrice e anche un fine egoistico perché la sessualità di per sé con la presenza della libidine tende all'appagamento della libidine personale cioè chi è coinvolto nell'atto sessuale ordinariamente cerca l'appagamento proprio lo si cerca insieme ma insieme si cerca che io appago il mio e tu appaghi il tuo mi si perdoni se sono così spero mantenendo un linguaggio sobrio però chiaro quindi come scrisse il benedetto sedicesimo della famosa Deoscarita Sest il fondamento dell'amore umano che si che si esplica nella sessualità è sempre erotico erotico l'eros è un movimento che tende all'appagamento di sé questo non c'è niente a che fare con l'amore cristiano con l'agape perché l'agape tende a far felice l'altro allora che cosa intende la chiesa quando dice integrare la sessualità nell'affettività fare in modo di vivere anche questa realtà e certamente le sante coppie cristiane ci hanno quantomeno provato e io penso siano benissimo riuscite anche questo come una modalità di esercizio dell'amore è un compito degli sposi è una ulteriore nobilitazione della castità coniugale d'accordo perché poi ed è per questo che c'è questo sacramento il sacramento del matrimonio non soltanto anzitutto serve dentro questa ipotesi questo è certo questo qui perché se il sesso è lecito solo dentro il matrimonio vuol dire che il matrimonio sacramento è necessario per rendere lecito un atto che di per sé sarebbe illecito e abbiamo già detto se l'ipotesi che abbiamo fatto è vera perché la fornicazione da cui comunque nasce un bambino è peccato mortale perché i bambini non sarebbero dovuti nascere così tutto qua d'accordo se no com'è possibile che un atto da cui deriva una cosa così bella come la nascita di una vita sia peccato mortale se compiuto quanto meno per due battezzati fuori del sacramento della matrimonio cioè io sto cercando di stimolare perché qui siamo nell'ambito delle ipotesi d'accordo quindi ho già detto all'inizio di questo ciclo di catechesi stiamo semplicemente facendo ipotesi il peccato originale è stato commesso esiste ed è trasmesso l'abbiamo a suo tempo vista l'ottina della chiesa eccetera eccetera sul cosa e su cosa centra l'argomento sessualità con il peccato originale è argomento di discussione libera per ora libera perché non ci sono pronunciamenti autorevoli della chiesa docente chiamiamola così al riguardo certo non è inutile una cosa di questo genere perché ripeto io quando lessi queste cose adesso ho capito tutto se le cose stanno così allora è tutto quanto perfettamente logico e coerente è normale che il cristianesimo e quindi la chiesa che lo diffonde nel mondo abbia un insegnamento così severo così rigido chi non ci crede pensi a Fatima se credo almeno a Fatima e pensi la festeggeremo tra non molto tra una ventina di giorni alla patrona della mia terra d'origine che è Santa Maria Goretti martire della castità si è fatta ammazzare piuttosto che compiere un solo atto impuro dicendo da Alessandro Serenelli dall'alto della cattedra del suo analfabetismo umano ma della sua laurea in sapienza divina acquisita nella sua semplicità che fai Alessandro? questo è un peccato orribile io non lo commetterò mai se fai questo vai all'inferno punto ed è morta per questo non è uno scherzo non è un gioco le martiri dei primi secoli sono morte per questo le vergini perché il martirio di Santa Cecilia lei ha rischiato di morire martire in primis perché aveva rifiutato il marito pagano valeriano se uno va a leggere il martirologio sta pieno di queste storie poi abbiamo il discorso Gesù che è rimasto vergine poi abbiamo il discorso Maria come è nato Gesù come è stato concepito Gesù il fatto che con San Giuseppe non abbia avuto nessun tipo di contatto vergine prima durante e dopo e questo non si discute chi discute questo è eretico è fuori della chiesa cattolica seduta a stante e perché? se fosse una cosa bella e santificante ti pare che la Madonna non l'avrebbe vissuta lei che era più santa di tutte e com'è che invece c'ha avuto un figlio senza questo e non solo il figlio nasce senza ledere la verginità quindi nasce miracolosamente il sigillo della verginità ricordiamo i padri della chiesa che dicevano la condizione che Dio voleva per l'uomo era la verginità per tutti questo è chiaramente confermato dall'esperienza di Gesù e di Maria pensiamo anche a tutto l'onore in cui c'è la verginità compresi i documenti del tanto vituperato e chiacchierato concilio Vaticano II ma nei documenti del concilio Vaticano II si riafferma la dottrina tradizionale dell'eccellenza della verginità sul matrimonio della verginità e del celibato che sono sempre state tenute in palma di mano cioè il matrimonio è buono ma la verginità è migliore questo la chiesa ha sempre insegnato sempre sempre e perché? e perché? cioè gli sposi hanno una funzione bellissima nobilissima ti pare poco essere un collaboratore di Dio nel procreare nel mettere al mondo una vita nell'educarla nel farla un cittadino del cielo ti pare poco? è tanta roba ma la verginità è eccellente su questo e perché? sto sto facendo domande 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 no? poi ci abbiamo un'altra verità di fede il peccato originale si trasmette nell'atto del concepimento questo la chiesa lo insegna e perché? nell'atto del concepimento questo è insegnamento della chiesa e perché? e attenzione come dicevano i padri della chiesa sì tu ti sposi col sacramento del matrimonio che succede? l'atto con cui tu concepisci un figlio è lecito non è peccato ma il peccato viene trasmesso lo stesso il peccato originale e come mai? come mai se questi sono due battezzati e hanno pure ricevuto il sacramento del matrimonio non peccano ma trasmettono il peccato originale ma come mai? se questa ipotesi è vera perché si trasmette il peccato originale? perché questa modalità di procreare non doveva esserci e quindi siccome adesso è l'unica evidentemente che abbiamo bene non ci sono mai nessun padre della chiesa e mai nessuna persona sensata tutti quanti gli eretici hanno fatto questo qui non ha parlato bene del matrimonio non ha lodato il matrimonio non ha affermato che non soltanto che i coniugi devono avere una vita coniugale ma anzi se sono capaci di aprirsi generosamente alla vita riceveranno grandi ricompense presso il padre per aprirsi alla vita nell'attuale condizione cioè non ti apre la vita dicendo tanti rosari in due mi si perdoni insomma come dire una piccola pena ironica no? quindi attenzione perché adesso ormai le cose stanno così è stato posto in essere il piano B d'accordo? e il piano B è irreversibile cioè soltanto Gesù Cristo è stato concepito differentemente non ci sono altri altri concepimenti come nostro Signore la Madonna stessa è immacolata ed è per questo che la Chiesa ci ha messo tempo perché per essere immacolati con la riproduzione sessuata ci vuole un miracolo perché se tu lasci la natura fare il suo corso non c'è niente da fare non esiste persona che non sia contaminata dal peccato originale e quindi siccome devi andare contro la natura devi superare una barriera della natura il miracolo per antonomasia il miracolo sia quando sia una violazione come dire quindi un andare contro una legge naturale fisica chimica in questo caso proprio vogliamo chiamarla spirituale chiamatela come volete ma il peccato originale si trasmette nell'atto del concepimento questo non si discute allora da questa ipotesi allora cominciamo a trarre le cose sessualità ridimensionata ridimensionata valore della verginità di nuovo riaffermato e esaltato importanza anche pensate a tutte quante le chiacchiere perché adesso magari non c'è soltanto il problema legato al tentativo come dire di gradualmente portare dentro la chiesa ad una normalizzazione perfino degli atti omosessuali ma c'è anche il problema connesso sapere ci sono delle spinte da parte di chi vorrebbe abolire il celibato dei sacerdoti noi capiamo dentro questo orizzonte ricordiamo anche le legislazioni dell'antico testamento che non ci si poteva accostare i sacerdoti che erano allora sposati perché ancora non c'era la pienezza della liberazione ancora non erano arrivati Gesù e Maria ma prima di ufficiare dovevano astenersi dalla moglie dai rapporti sessuali anche questo come abbiamo visto anche poi nella rassegna conclusiva è un punto interrotto e perché perché mi devo astenere dai rapporti con mia moglie lo stesso diagonato permanente che è stato ripristinato recentemente nella chiesa voi sapete che i diagoni permanenti adesso sono uxorati e non viene chiesto ai diaconi permanenti dopo che diventano diaconi di sospendere l'attività sessuale questa è un'altra cosa atipica perché un tempo i diaconi facevano promessa di virginità domani è Sant'Efrem diacono San Francesco d'Assisi penso che tutti sanno che era diacono ma il diacono rimaneva e questo lo si capisce ancora che se tu diventi diacono prima di essere sposato come a me per esempio io la promessa di castità la promessa di celibato non l'ho fatto il giorno dell'ordinazione presbiterale l'ho fatto il giorno dell'ordinazione diaconale perché appena tu entravi in quelli che un tempo si chiamavano gli ordini maggiori cioè dal diaconato in su da quel momento tu eri obbligato a aceribare il fatto che siano come dire che siano state ammessi al diaconato persone sposate voi capite che può essere uno step se utilizzato in un certo modo non necessariamente per aggirare gradualmente il fatto del celibato tanto è vero che quando si è parlato recentemente non troppo tempo fa di certi problemi si proponeva in casi eccezionali quindi in luoghi dove c'erano carenze di clero di ordinare i preti i diaconi permanenti come eccezione d'accordo però capite bene che se passo una cosa di questo genere se dovesse passare una cosa di questo genere l'eccezione diventa subito la regola perché se una cosa passa il principio che è fattibile che si può fare si inizia come eccezione ma poi perché non dovrebbe diventare la regola perché se si può fare basti guardare per esempio lo dico sempre ed è penso che sia incontestabile quello che è successo nella chiesa con la comunione sulle mani basta andare a leggere la storia oh io mi permetto qui in pubblico sta cosa resterà chi vuole farsi una cultura di avere la pazienza di leggersi l'opera del mio carissimo fratello e amico Don Federico Bortoli che ci ha fatto una tesi dottorale in diritto canonico che si chiama la distribuzione della comunione sulla mano lì c'è tutta la storia e come un'eccezione in maniera surrettizia e anche poco chiara sia poi diventata la regola e quello che è successo negli ultimi tempi è il punto di arrivo di tutto quanto questo percorso ma anche a prescindere adesso dalle problematiche legate a Covid e compagnia cantante anche prima di questa realtà non so se gli occhi ce li ho soltanto io ma nella stragrande maggioranza almeno in Italia per quello che poto vedere io di comunità parrocchiali già prima di tutto questo la maggior parte delle persone prendeva la comunità in mano ma la stessa cosa è successa con 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 il clergyman no l'abito ecclesiastico la stessa identica cosa cioè fino agli anni 50 da quando tu venivi ammesso agli ordini sacri che allora ti mettevi la tonaca tu non te la potevi togliere mai nemmeno per giocare a pallone penso che tutti abbiamo visto da qualche parte le foto dei seminaristi che se legavano la tonaca che giocavano a pallone con la tanare d'accordo ecco esagerazioni queste qui che è sta roba fissazioni manie allora io vi posso confessare questa è una confessione insomma è un'esperienza di un essere umano d'accordo che condivido io ho letto tanti libri di santi ho visto anche tante cose cerco sempre di osservare delle cose molto severe molto rigide e dalle volte leggendo tante cose mi dicono ma mamma mia io già soltanto rigido ma questi sono questi sono più rigidi di me ma mi sembra un po' troppo come mai una rigidità così estrema dopo ho capito perché su certe cose per come è fatta adesso l'essere umano se tu poco poco allenti un po' la fine sapete come adesso la maggioranza del clero voi che cosa vedete in giro come va vestito in borghese in borghese ma in borghese allo stato in borghese attenzione in borghese allo stato attuale non c'è nessuna norma canonica che lo consenta è solo una prassi che si è imposta de fatto ma nel diritto non c'è scritto che puoi andare vestito in borghese c'è scritto che puoi portare il clergyman in sostituzione dell'abito ecclesiastico non in borghese come si è arrivati a questo tutto comincia nei famosi anni 50-60 quando cominciarono a uscire le cosiddette lambrette che alcuni preti cominciavano a lamentarsi sai che con la sottana gli andavano a finire e gli andava a finire la sottana dentro i raggi di quei ruotoni che ci avevano le lambrette e era scomoda se io devo farmi un giro con la lambretta devo andare a portare la gommina a qualcuno mi devo togliere le strade di più comodo se devo fare un viaggio lungo in treno eccetera eccetera allora disposizione solo in queste circostanze ti puoi togliere la tonaca e mettere il clergyman fino di tutto è partito tutto così è partito tutto così voi capite come anche in queste cose anche a livello ecclesiale penso che in molti conoscano la finestra di Overton bisogna andarsela a studiare quella cosa lì perché c'è una grande sapienza cioè la finestra di Overton sapete sapete che cose no? allora io so un concetto che allo stato attuale è assolutamente inconcepibile inammissibile però quel concetto a me mi piace io devo trovare il modo per sdoganarlo come faccio ad arrivare da una inammissibile ma voi pensate se cento anni fa cento anni fa stiniamoci larghi avessero detto a un cattolico tu prendi la comunione in mano ma quello ma quello sarebbe inorridito o a un prete ma sarebbe ma tu sei scemo e come è stato possibile ripeto dall'eccezione iper circostanziata per step successivi quindi l'eccezione si allarga si allarga si allarga si allarga si allarga dopodiché diventa la regola senza che nessuno se ne è accorto se posso portare il clergyman per andare sulla labretta posso metterlo pure sul treno poi lo mettiamo pure sulla macchina poi lo mettiamo anche per uscire dalla parrocchia quando sto in parrocchia no però per uscire dalla parrocchia si poi quando sto in parrocchia ma soltanto quando celebro quindi quando confesso quando dico la messa se invece non sto in versione ufficiale posso mettere e poi metto solo il clergyman e poi vabbè ma oggi cioè perché il clergyman l'abito del clergyman che è nato in mondo protestante questo bisogna dirlo gli mentori del clergyman sono stati i protestanti perché il clergyman a differenza della taare stiamo non credo che sto scendo fuori fuori tema adesso ci ritorno nel tema però per far capire come ci sia una analogia delle problematicità il clergyman è forgiato sul modo di vestire laicale distingue il sacerdote ma non lo distingue perché è l'uomo di Dio non è l'abito sacro quindi non evidenzia la sacralità del sacerdote ma il suo essere comunque una persona distinta che svolge ruoli distinti rispetto agli altri ma a quel punto posso anche mettermi una camicia e mi metto una crocetta sul petto non la portano tutti la crocetta sul petto quindi si capisce lo stesso che io sono un prete anche se ho una crocetta sul petto e di per sé questo discorso non è che fa tante pieghe capite io non è che sono tanto d'accordo con queste cose qui però capite la razio perché già il clergyman è come dire è passare ad un abisso cioè tu passi dall'abito sacro l'uomo di dio l'eredità kleros kleros in greco significa eredità quindi colui che è tolto dal mondo appartiene al signore si è mandato nel mondo ma sempre come uomo di dio e la talarenza la toglie mai né dentro né fuori diventa poi semplicemente uno che svolge una funzione particolare deve distinguersi certo che se io vado in parrocchia posso vedere uno anche se poi paradossalmente succede che ci togliamo pure la crocetta dal petto e tu vai in parrocchia sapete quante volte ho raccontato gente che andava in parrocchia trovava un uomo in chiesa dice scusi mi chiamo è il parroco io mi vorrei confessare e quello che risponde sono io il parroco e chi me lo dice che sei il parroco me lo devi dire lo spirito santo perché se non ti metti manco una crocetta più sul petto come faccio a sapere che sei il parroco tanto per dirne uno allora torniamo al nostro discorso il nostro discorso si basa su questo cioè come mai tutta questa grande rigidità nell'insegnamento della chiesa sulla sessualità dove le eccezioni non ci stanno non ci sono ecco appena si comincia a sdoganare perché sapete che qui su tante questioni il catechismo è sempre lo stesso ma la prassi non è proprio sempre la stessa e si guardi per quello che è che è successo cioè non parliamo di persone che arrivano vergini al matrimonio ma la stragrande maggioranza dei matrimoni oggi celebrati sono celebrati da persone che già convivono e nella maggioranza dei casi senza che si sia fatto un cammino di presa di coscienza penitenziale capite? cioè la situazione si presentano situazioni oltremodo imbarazzanti cioè io sinceramente poi a vederle dall'esterno io dico ma abiti bianchi in queste circostanze parere mio personale ma sono proprio di cattivo gusto poi abiti bianchi completamente scollati o sbracciati cioè l'abito bianco è segno di purezza e castità allora chi si mette l'abito bianco dovrebbe avere il cuore ma davanti ma io lo dico vedete perché cerco sempre di insistere ultimamente sull'importanza di formare le coscienze di mettersi davanti e ti dico ma figlia mia ma lo sai che Gesù ti sta guardando lo sai che dovrei tornare davanti a lui un giorno ma che cosa pensi che ti dica pensi che non ti dica niente se hai fatto delle scelte differenti sii coerente con quelle scelte che hai fatto non dico di mettere un vestito nero d'accordo mettete un vestito crema e sobrio c'è qualcuno che si copre quando entra in chiesa e poi si scopre quando esce anche qui per carità un prete si accontenta di questo ma capite che non c'è non va come non va tutto quello che si vede in giro con le mode d'accordo come non va che le donne vadano in giro vestite da uomini d'accordo non è possibile per una donna andare in giro vestita così deve capirlo perché una donna non è fatta come un uomo e se va in giro vestita da uomo inevitabilmente attrae attrae sguardi il Vangelo di oggi la lucerna del corpo è l'occhio se il tuo occhio sarà nella luce tutto il tuo corpo è luminoso ma se la luce che in te è tenebra quanto grande sarà la tua tenebra ho spiegato nell'omelia che l'occhio da un lato è lo specchio dell'anima cioè mostra quello che c'è dentro ma dall'altro condiziona quello che c'è dentro di noi perché noi con l'occhio guardiamo e l'occhio non va provocato nessuno è autorizzato a guardare ciò che non si deve ma capite se qualcuno si mette in condizione di farsi guardare ti dico mettiti davanti al Signore pensi che non ti dica niente il Signore quando andrai davanti a Lui i grandi santi i grandi classici Sant'Alfonso San Padre Pio San Leopoldo Mandic gente di questo calibro hanno sempre affermato certamente il peccato lo fa chi guarda ma ne è complice a un livello minore ma un po' sì chi si fa guardare a meno che per quanto sta in lei veramente non ha fatto niente per essere guardata sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo poi se trovi davanti quello che si dice che spoglia con gli occhi chiunque ve la guarda quelli sono affari suoi ma io sono innocente non ho dato adito a questo tutte queste cose ho già detto le ragazzine martiri si vedono per chi ci crede sugli istituti di Maria Voltorta chi no si procura i martirologi prima di farle sbranare dai leoni le spogliavano nude davanti a tutti e gli facevano fare il giochetto del peccato originale facendo andare incontro al serpente e le bambine quando tornavano poi dentro la galera prima di uscire per la seconda uscita per essere sbranate si disperavano non piangevano perché stavano per mangiarsene vive i leoni ma perché le avevano viste nude e temevano di avere perso davanti a Dio la purezza e la bellezza che Gesù non le volesse più la chiesa la chiesa cattolica è questo è sempre stata questo chi ne è dentro deve riscoprire questo deve vivere questo se vuole starne dentro se no come dice qualcuno è dentro col corpo è fuori col cuore su questa materia non si scherza non basta essere casti secondo del proprio stato di vita nella sessualità per essere salvi d'accordo? se però la Madonna dice che tutti quelli che stanno all'inferno tutti sono macchiati del peccato impuro molti anche di altri peccati voi capite che chi il peccato impuro non lo fa in nessuna forma beh insomma di speranze e di probabilità di non andarci all'inferno ce n'è molte di più non finisce il percorso della santità con la purezza la modestia e la castità ah ma certamente da lì comincia certamente da lì comincia perché San Paolo dice nessun impuro avaro eccetera eccetera erediterà il regno di Dio questo mettetevelo bene in testa lo dice San Paolo ai suoi nessun impuro erediterà il regno di Dio e su questa materia è così scabrosa delicata e grave perché su questa materia ci siamo giocati il piano A questo è il senso di questo nostro percorso cioè tutto quello che si vede su questa materia non avremmo mai dovuto vederlo fermo restando però attenzione e concludiamo ridimensionamento della sessualità dell'attuale sessualità legata alla libidine sì ma ridimensionamento della corporeità no e ripensiamo a quello che ci ha fatto vedere tenere amata Gesù lo dice i primi si sarebbero amati anche con il corpo anche con tutte quante le effusioni pulite possibili e immaginabili abbiamo fatto riferimento al bacio abbiamo visto che Gesù ha dato dei baci a delle sante donne se il bacio fosse un atto intrinsecamente cattivo o peccaminoso in sé ma ti pare che il nostro Signore Gesù Cristo vada a un bacio a qualcuno ma non lo è solo che darsi un bacio adesso è un problema perché il bacio stimola la libidine ma sicuramente in stato di natura integra se spregavano i baci non sarebbe successo niente niente e tutte le forme belle diciamo così di contatto corporeo non solo ci sarebbero state ma forse molto di più di adesso e forse senza nessun pericolo sicuramente senza nessun pericolo forse molto di più di adesso forse alcune cose che sono riservate al paradiso le avremmo vissute nel paradiso terrestre e questo Dio solo lo sa possibile perché la motivazione per cui oggi bisogna stare molto trattenuti e tutte quante le norme ascetiche che hanno dato sempre i santi specialmente per i consacrati sui contatti con l'altro sesso dipendono da questo è che oggi purtroppo non ci vuole niente come dicono a Napoli a picciar fuoco non ci vuole niente perché stiamo messi così e un consacrato non cessa di essere un figlio di Adamo a meno che Dio non gli faccia un dono straordinario raro per quanto ne so io di non sentire più gli stimoli dalle bidine San Paolo ha scritto che gli aveva stato inviato il messo di Satana e incaricato di schiaffeggiarlo San Francesco e San Benedetto in preda ai deliri impuri si sono rotolati dentro le spine quindi lo capiamo questo qui no? ma tutto questo dipende dal peccato originale e da ciò che il peccato originale ha attivato e con questo concludiamo questo ciclo di catechesi se a qualcuno è servito me ne lo allegro e se ci siamo fatti una bella chiacchierata pazienza ecco lasciamo se come e quando la chiesa vorrà dire una parola autorevole su questo e se non la dirà vedremo come stanno le cose sicuramente come sono andate le cose quando andremo in paradiso sperando di non esserci troppo discostati dal vero io vi benedica e la Madonna sempre vi protegge grazie a tutti